il persiano sapete qualcosa quando poco parla persiano? niente, poco non parla mai persiano no, certo, guardate un'altra fisica siamo almeno persiano questo è il mio secondo corso anche all'istituto culturale iraniano e studio il persiano per motivi lavorativi perché studio relazione internazionale all'università e spero di raggiungere un buon livello sia scritto che parlato e apprendere questa cultura millenaria Adolfo Sicuramente Per quanto riguarda l'esame, ho fatto il corso che ha finito con l'esame tre settimane fa e adesso non vedo l'ora di ricominciare. Per quanto riguarda l'esame, ho fatto il corso che voglio fare l'esame, ho voglio fare l'esame, ho voglio fare l'esame, ho voglio fare l'esame. Mi chiamo Magidio e sono interessato a frequentare questo corso di lingua persiana, visto che ho origini iraniane, ma non sono così bravo nel parlare, quindi per perfezionare la lingua. Per le 10 fai tu, per le 10 e mezza fai tu, per le 2 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 fai tu, ho bisogno di qualcuno che si occupa dei compiti, mettere la fana contro, lo metti su più. A causa di un viaggio mi sono interessato alla lingua persiana e da allora, un viaggio di qualche anno fa, ho cominciato a studiare il persiano e adesso sono qui all'esame. Nella prossima settimana. Se dovessimo perdita mancare una visione, come facciamo adesso? Cioè ci sarebbe la possibilità di recuperare in qualche modo? Cioè ci sarebbe la possibilità di recuperare in qualche modo? Zero. Zero. Tu sei la seconda generazione, papà e mamma iraniano? Sì, papà. Papà. E voi anche? Zero. Papà iraniano? Ok. E voi anche? Non, 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 non. Grazie a tutti.